Benvenuti, benvenuti anche oggi, una giornata simpatica, anche se un po' uggiosa e nuvolosa, ma non ne importa. L'importante è che il Signore risplende nei nostri cuori. Ringraziamo le persone che sono venute anche là dietro. Ci sono delle persone, noi ringraziamo tutti quanti che sono venuti qua, c'è Gaeta, c'è Sargia. Ci sono i nostri bravi amici, le due Irine. Irina una e Irina due. Due Irine e abbiamo là Juan Carlos, abbiamo le varie persone che ci vengono a trovare tutti i giorni, noi li ringraziamo. Sono qui per ascoltare il messaggio della parola e anche per mangiare il cibo solido, ma anche quello spirituale. Tra un po' ci sarà la lettura della parola, se Dio vuole, ci saranno anche le telefonate viva voce come tutti i giorni. Oggi è il 27 marzo 2015, venerdì. Ringraziamo le persone che sono venute e piano piano vediamo come possiamo aiutare queste persone attraverso le telefonate, telefonate viva voce. Ringraziamo queste brave persone che stanno godendo il pasto solido e preghiamo per i bambini poveri, per le persone povere che sono all'estero, che non hanno quello che stiamo mangiando noi. Grazie a Dio.